ciao benvenuti su cartesia oggi vi propongo una ricetta facilissima velocissima ma soprattutto buonissima un dolce al cocco che si prepara in pochissimo tempo il dolce dell'ultimo minuto vi lascio qui sotto nell'info box tutti gli ingredienti buona visione prendete un pentolino versate 125 grammi di burro 250 ml di latte io utilizzo la soia gusto vaniglia 180 grammi di zucchero bianco portiamo sul fuoco il nostro pentolino con una fiamma dolce mi raccomando la fiamma deve essere bassa facciamo sciogliere bene il burro con lo zucchero e latte quando comincia a bollire noi versiamo il cocco quindi spengo la fiamma e verso il cocco inizio con 100 grammi di farina di cocco vado ad amalgamare bene il tutto e poi vi consiglio di versare altri 50 grammi di farina di cocco amalgamate bene il tutto guardate benissimo il vostro composto quando vedete che raggiungete questo risultato il vostro composto è pronto quindi magari versate prima 100 grammi poi 50 grammi e poi altri 50 grammi dovete vedere quanto cocco vi richiede il vostro composto fin quanto diciamo che assume una consistenza più solida bene poi prendete uno stampo e versate il vostro composto all'interno mi raccomando mettete la carta forno eseguite una leggera pressione così il composto si è posizionato bene all'interno del nostro stampo bene mettete un foglio di pellicola sopra il vostro stampo e conservate in freezer per circa un'ora e mezza un'ora e quarto un'ora e mezza trascorso il tempo necessario riprendete il vostro stampo dal freezer adesso potete dare forma ai vostri cioccolatini quindi a forma di cilindro di quadrato di pallina fate un po voi date largo spazio alla vostra fantasia quindi lavorate con le mani il vostro cioccolatino buonissimo date la forma che volete sciogliete a bagnomaria 200 grammi di cioccolato fondente con due cucchiai di olio di semi di soia oppure potete utilizzare una noce di burro una volta sciolto il nostro cioccolato fondente rotolate i vostri cioccolatini i vostri dolci all'interno del cioccolato fondente e conserviamo in freezer per circa un'ora dopo un'ora i nostri cioccolatini i nostri dolci super golosi sono pronti per essere gustati che dirvi io spero che questo video vi sia utile mi raccomando iscrivetevi perché ci sono in arrivo tantissime video ricette super golose e tantissime altre video ricette troverete sul mio canale attivate la campanella così rimarrete aggiornati su tutti i miei nuovi video e se volete potete seguirmi su facebook oppure su instagram come ricette golose di cartesia ragazzi mi raccomando provate questa ricetta sono buoni come gli originali buoni buoni ciao alla prossima baci da cartesia